Musica Tegniamo il minuto Anche Furini ha fatto una scommessa su Llorente quest'estate No, voleva pagare le pizze a tutti se Llorente fa più gol di... Belfodil, sono d'accordo con Furini Belfodil non l'avete ancora preso che ce l'ho scaricato, Furini Allora, la pizza per dieci persone, la scommessa è questa che Belfodil farà più gol di Llorente Belfodil finisce 3-2 Allora, puoi dire perché se lo date nell'Iter Nell'Iter, a che ora fa gol e si mangia la colazione? Non lo so, Belfodil, Belfodil Ma fare che lo date già io Belfodil farà più gol di Llorente